Sì sì, senti io vorrei parlare di qualcosa di importante, qualcosa che nel canale di XXV se ne parla spesso ed è il fatto che la gente pensa e dice comunque che tu sei appeso al mio cazzo Ah sì? Sì e che sei la mia ombra, c'è anche il meme Il fatto è questo ragazzi, che è vero o è stato vero, ma Daniele se ne è sempre anche qua, vai parla tu E cosa devo dire io? Di come tu vivi questa cosa, perché ti dico come la vivono loro, perché io li conosco e ti dico come la vivono loro Loro la vivono, loro pensano di essere in un mondo dove tu sei molto agiato dal vivere con me e questa cosa qua tu ne stai veramente approfittando Ok Ed è questo il pregiudizio, tu ne stai approfittando Ma non è vero Non è vero anche principalmente, è successo che io ti dissi oh andiamo a vivere insieme, quindi più che altro è stato mio, approfitta me Cioè abbiamo creato un progetto assieme e l'abbiamo fatto Sì E c'è anche da dire ragazzi, che facendo questo discorso non solo insultate la sensibile pelle di Daniele Ma principalmente, dico principalmente non perché sono più importanti di lui, ma perché il progetto comunque l'ho creato io Insultate il mio intelletto, l'intelletto che ci sta nel shaker una persona per creare un cazzo di progetto Io di certo non vado a buffo de cazzo Come direbbero i romani Come direbbero i romani, i romanazzi da Roma Non vado a buffo de cazzo, ma vado secondo quello che sento e quello che vedo Daniele ci siamo conosciuti, ci siamo stati simpatici, io ho detto cazzo facciamo sta cosa e Fiu quando parliamo di videogiochi sarebbe bello farlo davanti a una cazzo di telecamera Infatti principalmente ci divertiamo io e te Già, in più tu per me sei stato in questi anni una guida per Twitch, sia con le amicizie che avevi che con quello che ti è successo pure sulla tua pelle Che a me serviva, e ironicamente questo cazzo di ritardo che abbiamo avuto, a me è servito un sacco Tutte le volte che hanno bannato Paolo, una volta anche per colpa tua, tutte le cose che sono successe Queste cose servono Quindi io non voglio dire, non voglio far finire le voci perché le voci a me divertono e dilettano abbastanza Ma anche a me fanno ridere comunque Però non succede tutto a buffo de cazzo nella vita E tipo il miglior contenuto che c'è in giro su Twitch ultimamente è Yoradium Non dire così Perché ci sono tanti altri influencer che meritano il rispetto di voi